buongiorno con melania facciamo il video spesa di questo giorno 23 23 9 2021 allora dasci eccolo qua 17 lavaggi più 2 cioè 19 liquido naturalmente cosa 4 e 2 nonno era con lo sconto 4 99 nonno forse però mi ha tolto mi ha tolto due mi ha tolto qualcosa perché era 240 era comunque sempre caro l'ho voluto provare poi cannoli siciliani eccolo qua questi ce ne sono tre sei cannoli siciliani 2 euro e 59 ricotta fresca questa è buonissima l'ho presa tre volte a 6,90 kg ha pesato 4 etti virgola 4 etti e 68 quindi è uscita 3 euro virgola 23 zucchero un pacco eccolo qua 78 centesimi latte intero arborea non c'è bisogno che ve lo dico che è buono perché già l'avrete provato 1 euro e 59 cacchi in confezione ce ne sono tre tre pezzi il prezzo a quanto sono al chilogrammi 349 si si hanno pesato 545 quindi 1 euro e 90 si vede si vede totale banane dolci banane dolci a 1 euro e 89 al chilo hanno pesato 480 grammi 91 centesimi pomodoro a grappolo eccole qua sono 5 pomodori al chilo 2 e 39 hanno pesato 830 grammi 830 grammi 1 euro e 98 ok perfetto pere coscia eccoli qua questi sono al chilo 2 e 99 due hanno pesato 230 grammi 69 centesimi patate tutte le patate di arborea le credo sempre dicono oh gente d'arborea dite patate novelle però questi tanti novelli non sono ve lo voglio dire perché stanno già gerbogliando quindi attenti a quello che fate perché i clienti le cose le vediamo ehm sono buone di gusto naturalmente si adesso infatti è la nonna qui c'è tre limoni al chilo 2 e 59 sono abbastanza carucci vabbè vabbè peso netto 4 e 85 ehm sono usciti 1 euro e 26 patate limoni l'abbiamo messi oltre c'è peperone giallo eccolo qua si ecco lì peperone giallo al chilo 2 e 99 peso 2 2 e 60 totale 78 centesimi aspetta se lenticchie per due persone carucci anche questi al chilogrammi 2 e 69 ehm hanno pesato 215 grammi no aspetta pesonetto pesonetto 2 115 no 2 euro e 15 2 euro e 15 centesimi 58 centesimi di totale eh deve essere ancora un peperone rosso si peperone rosso al chilogrammi 2 e 99 ha pesato 3 etti 300 grammi quindi 90 centesimi eh sì sì e questa è la nostra in tutto spesuccia di oggi in tutto è speso totale 22 e 44 ok 22 e 44 centesimi perfetto statemi tutti bene auguriamoci il meglio e che la gente si vaccini che non non si deve distruggere il pianeta per tanti anarchici beh no dai su via che non capiscono che bisogna vaccinarci mica poi ci insultano lasciate altrimenti non se ne esce più volete tanti morti in casa vostra beh dai su via se noi volete vaccinatevi dai io mi sono vaccinata sto meglio di prima vi saluto e vi dico sempre la verità buongiorno a tutti tante cose belle e speriamo che finisca questa penitenza per tutto il mondo intero per il pianeta intero arrivederci ok ciao